Benvenuti all'approfondimento del giovedì, quello dedicato al mondo delle materie prime. Come sempre con noi il nostro specialista Giancarlo Dallaglio, con moditstrading.it. Giancarlo, buongiorno ci sei? Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, forse ci conviene cominciare con il petrolio, visto quello che è successo, la decisione che è stata presa dall'OPEC di estendere in termini temporali il taglio della produzione di 1,2 milioni di barili al giorno, un taglio che i mercati praticamente, anzi sicuramente in base all'andamento del grigio avevano già scontato e dunque non è che... Insomma, il rialzo con quel taglio lì, con quella estensione temporale, il rialzo dei prezzi non era per niente fatto. E così è stata, alla fine siamo ritornati sui 56 dollari e adesso siamo lì che viaggiamo in terreno laterale. Materia prima della settimana, petrolio? Sì, possiamo farlo, materia prima della settimana, anche se ce n'è un altro di cui parliamo fra un attimo che secondo me è altrettanto interessante o anche di più. Per quanto riguarda il petrolio, Emeric, hai praticamente detto tutto tu. Punto primo, l'OPEC è vero che dice di prolungare di nove mesi il taglio della produzione, lasciando invariata la quantità a 1 milione e 200 mila barili, però alla fine l'OPEC non ha mai tagliato 1 milione e 200 mila barili, neanche fra dicembre e giugno. Ne ha tagliati circa 900 mila in tutto, inclusa la Russia, quindi si tratta sempre di cifre nominali che poi magari non vengono rispettate dalla realtà. È vero che si libera una quota di produzione dell'Iran che appare in questo momento più debole, un po' fuori dai giochi. È vero che c'è un'altra quota di produzione a rischio che quella del Venezuela e può approfittarne, l'Arabia Saudita può approfittarne la Russia. Gli americani producono sempre un po' sopra 12 milioni di barili al giorno, siamo ai massimi di tutti i tempi. Un dato interessante è quello degli scorsi giorni che ha evidenziato come dagli Stati Uniti verso il resto del mondo ci sia un record attuale di esportazione di greggio. Non ricordo esattamente la cifra, ma siamo ai massimi di tutti i tempi. E questo considerando anche che non si sta esportando a ritmo elevato verso la Cina perché c'è ancora in piedi la questione della guerra dei Dazi, anche se almeno a parole mitigata durante la riunione del G20 della scorsa settimana, riunione in cui la diplomazia ha prevalso con Trump che diceva proseguiremo i colloqui ma saranno lunghi, dall'altra parte il suo omologo che ha affermato meglio un accordo che uno scontro, che non è un proverbio cinese anche se veniva dal leader cinese. Quindi lateralità per il petrolio 65 come prezzo di estensione possibile, dalla parte bassa i 50-55 dollari. Resteremo probabilmente in quest'ambito a meno che non ci siano situazioni particolari durante l'estate, parlo di eventi geopolitici particolarmente gravi, altri attentati a petroliere oppure aggravarsi della situazione di contrasto fra Stati Uniti e Iran nelle zone dei golfi medio orientali, oppure crollo delle borse che sono sui massimi di tutti i tempi. Ieri l'S&P 500 ha fatto un altro massimo assoluto, però ricordiamo che lo fa in concomitanza con un rendimento del decennale americano sotto il 2%, si continua a comprare obbligazioni, si continua ad acquistare oro che ha provato anche a ritoccare il massimo precedente relativo di qualche giorno fa, talvo poi essere respinto in area 1.440 circa. Insomma, qualcuno mente, ne avevamo già parlato Emerick, e il petrolio potrebbe essere coinvolto in queste bugie che qualche mercato sta dicendo. Va bene, senti i livelli, quindi quale ci diamo? Io direi per il breve 60-55, se ci dovessero essere notizie positive sia dall'economia globale, quindi dati macroeconomici che fanno pensare a un aumento della domanda, sia in termini di taglio reale della produzione da parte dell'OPEC che allora a 65, altrimenti 55 direi che è un buon supporto in questo momento, tenendo presente che siamo ancora in piena driving season, e quindi fino alla metà del mese di settembre più o meno dovremmo rimanere più o meno su queste quotazioni. Insomma, gli acquisti direi che i trader di breve li fanno intorno ai 56 dollari, le vendite intorno ai 60 dollari attualmente. Va bene, allora era un'energetica l'altra materia prima della settimana? Eh no, no è una soft però... Allora chiudiamo con le energetiche? Eh già so che vuoi chiedermi del Natural Gas perché ci saranno sicuramente mail o messaggi che ci chiedono l'UMI, il trend è ancora ribassista, evidentemente ribassista, tutta colpa del meteo, su cui negli Stati Uniti stanno messi molto meglio di noi, perché mentre noi abbiamo, guardando le cartine del meteo, un'Europa totalmente rossa di fuoco, insomma, il sole continua a riscaldare e riscaldare sopra i 35-37 gradi in molte zone, negli Stati Uniti invece il caldo tarda ad arrivare e naturalmente i consumi tardano a farsi sentire, la domanda tarda ad aumentare. Questo comporta iniezioni nello stock di gas nel sottosuolo, gas stoccato appunto, e comporta un surplus di scorte rispetto alla stessa settimana dello scorso anno, circa più 9%. Rispetto alla media a 5 anni siamo ancora in deficit, però insomma erano un paio d'anni che non si vedeva un surplus di produzione, nonostante gli Stati Uniti esportino con forze anche nel resto del mondo, ma è la produzione che è veramente ai massimi livelli. Ecco la difficoltà del prezzo a ritornare su, siamo intorno a 2,250, attenzione al meteo perché nel momento in cui dovessero arrivare temperature torride potremmo vedere prezzi più alti, perché questa sembra essere comunque un'area di buon valore per il natural gas attualmente. Va bene, allora visto che gli energetici li chiudiamo qua, vuoi fare qualche sintesi, qualche derivato? No, possiamo semplicemente fare un commento sulla benzina, Emeric, perché la benzina aveva toccato durante il rialzo, aveva eguagliato i massimi di settembre 2018, che corrispondevano più o meno ai 75-77 dollari per barile del petrolio, vuol dire che la benzina ha sovraperformato nettamente rispetto al suo sottostante, rispetto al petrolio, e questa è una notizia anche perché Trump sul calo del prezzo della benzina nell'ultimo trimestre dello scorso anno ci aveva fatto una vera e propria campagna mediatica dicendo che è un vero e proprio sconto fiscale ulteriore che faccio agli americani facendogli pagare di meno la benzina. Non so se arriverà qualche tweet, anche perché il prezzo della benzina nel frattempo sta ritracciando e quindi sicuramente Washington è più tranquillo in questo momento, i prezzi sono più equilibrati, però credevo giusto fare questo appunto sulla benzina verde. Va bene, allora andiamo a vedere questa commodity della settimana. La commodity della settimana è il caffè, di cui abbiamo parlato praticamente per tutto l'inverno, perché c'è stato grande interesse quando i prezzi scendevano e scendevano in trend decisissimo. Parliamo di prezzi che erano andati sotto quota 100 per un paio di mesi circa, dall'inizio del mese di aprile fino all'inizio del mese di giugno, quando però erano in netta ripresa. Parlavo in quelle settimane di necessità di cambio di focus del mercato, perché il mercato era ancora focalizzato su un raccolto enorme del Brasile dello scorso anno, 62 milioni di sacchi, e dicevo siamo sotto il prezzo di produzione, gli agricoltori sono alla disperazione, soprattutto quelli brasiliani, ma sicuramente ci sono commercial che stanno comprando caffè. Nel frattempo il posizionamento dei large speculators, quindi degli istituzionali, era decisamente short, eravamo arrivati circa a 80-85 mila contratti al ribasso, entità che si è ridotta notevolmente, anzi questa settimana probabilmente potremo avere un dato che elimina completamente lo short a giudicare dal movimento che c'è stato, perché dai minimi di metà giugno a 1997 poi c'è stato un ulteriore rally rialzista che ha rotto i massimi precedenti e adesso siamo sui massimi di febbraio del 2019 per quanto riguarda la scadenza settembre sul caffè. Ieri si è arrivati a testare millimetricamente quota 115 per poi chiudere più giù di circa 200 punti a 113, però c'è stata una giornata di rialzo per il caffè, il focus è cambiato, l'USDA ci dice che ci sarà una riduzione del raccolto brasiliano per il prossimo anno, cosa ampiamente prevedibile anche perché siamo in un ciclo biennale off in cui la resa delle piantagioni è inferiore rispetto agli anni on e quindi tra i 58 e i 52 milioni di sacchi ci sono le proiezioni di USDA e di altri enti privati. Inoltre anche dalla Colombia e dal Vietnam ci sono proiezioni per un deficit di produzione ma la notizia più importante è un aumento della domanda esponenziale. Lo avevamo sottolineato già nei mesi scorsi, per esempio Starbucks che aveva dichiarato di avere in programma di aprire circa un punto vendita ogni due giorni in Cina, significa circa 600 punti vendita per il 2019, i lavori procedono spettiti e significa che in Cina c'è un grande aumento di consumo di questa bevanda. Starbucks sappiamo che è una catena che si dedica anche alla commercializzazione di caffè nel famoso bicchiere di plastica che immagino adesso diventerà di carta perché c'è un po' questa nuova tendenza all'ecologia e all'immettere quanto meno plastica possibile nel territorio. Queste sono un po' le motivazioni che mi portano a eleggere il caffè con modi della settimana perché ha fatto tra l'altro appunto quattro sedute notevoli. Oggi è festivo negli Stati Uniti perché è 4 luglio, domani vedremo la chiusura della settimana che secondo me sarà a ritmi ridotti perché è una specie di ponte, poi si va direttamente al sabato e la domenica e ci saranno volumi ridotti sulle commodities. Andiamo in pausa, resti con noi? Certamente. Dai, pausa e torniamo subito con la seconda parte di Commodity Trading. Allora, seconda parte di Commodity Trading, Giaccarlo Dall'Alio, rimaniamo sulle soft, abbiamo, ci chiedono soia e riso, la soia ce l'abbiamo, facciamo la soia? La soia sì, ce l'abbiamo, è una granaglia, c'è stato un report importante venerdì scorso che ha un po' scombussolato i piani dei rialtisti per tutte e tre le sorelle, soia, grano e mais. Il ribasso è partito dal corno, insomma, se vogliamo analizzare la soia c'è stato un test di quota 900, poi ieri una bella risposta del mercato, la soia deve ancora completare le semine estive, al contrario di quanto invece è stato fatto per il corn, la discesa è arrivata proprio dal mais, di cui dovremmo avere un grafico, in realtà la sorpresa del mercato è stata grande, perché ci si aspettavano acri non seminati rispetto alle intenzioni di semina di marzo per 5 o 6 milioni e invece è venuto fuori un 1.09.000 di acri non seminati, questo ha immediatamente buttato giù il prezzo del corn che è andato a fare anche il mid-down, quindi l'omologo della sospensione per eccesso di ripasso del mercato azionario, salvo poi chiudere un po' più su in area 4,25, chiusura della settimana quindi brutta, apertura anch'essa sotto i livelli di supporto e poi le ultime due sedute recuperò, soprattutto ieri, perché giungono anche notizie di possibili aperture alle importazioni da parte dei cinesi sia di soia che di mais per andare a sostituire l'alimentazione dei maiali negli allevamenti. Sappiamo bene che c'è stata la questione dell'influenza suina in Asia, in Cina, che ha colpito moltissimi allevamenti e c'è una grande crisi in Cina per questo motivo, una grande crisi degli allevatori, ebbene gli allevatori alimentavano i maiali con gli scarti dei ristoranti e probabilmente si dice che possa essere una delle cause dello svilupparsi di questa influenza, di questo virus letale per i maiali, quindi hanno deciso di sostituire questo tipo di alimentazione con quello altamente proteico dato dalla soia e dato dal corn, quindi potrebbero aumentare la domanda di soia e di mais ed ecco il motivo, uno dei motivi della bella seduta di ieri per il corn, più 17 punti, più 9 punti per la soia, quindi ritorna un po' di ottimismo su queste due granaglie, il focus a questo punto è sull'andamento dei raccolti, perché è vero che si è seminato un top sul mais e ormai è acclarato, non solo queste cifre potrebbero essere viste in basso, ma potrebbe essere rivisto anche la resa per acro, dato molto importante perché poi determina le scorte finali e anche il rapporto tra scorte e utilizzo, quindi tutto in ballo e i rialzisti possono cominciare di nuovo a fare degli ingressi, magari tenendo come supporto proprio i minimi di lunedì scorso. Metalli, dai che abbiamo ancora pochi minuti, hai fatto i compitini sulle terre rare, nickel... Allora, ho uno speciale su nickel la prossima settimana, Emery, perché me lo stanno preparando, me lo stanno preparando... Ah, hai delegato la strategia del forward, dell'inoltra? Bravissimo, dell'inoltra sì, perché in realtà come i nostri telespettatori sanno, non faccio trading, non faccio investimenti sul nickel o sulle terre rare, ma non perché non siano interessanti, piuttosto perché la liquidità è minima e quindi ovviamente preferisco stare su quelle 12 commodity su cui c'è grande liquidità. Per quanto riguarda i metalli più commerciali, l'oro per esempio, quello di cui si parla di più, ieri un tentativo di test dei massimi in area 1.445, poi sventato, insomma, rientrato in chiusura di giornata, però insomma fa strano che con borse sui massimi e dollaro che rimane più o meno stabile, l'oro tempi ancora degli affondi rialzisti. Ecco perché in apertura di collegamento, Emery, ti dicevo, qualcuno mente e vedremo insomma Ma guarda, come non mi fidavo insomma del rialzo, non mi fido neanche del ribasso dell'oro, cioè proprio l'oro non mi fido in questo periodo di quello che stava c'era. Sì, sì, assolutamente, certo. No, no, sempre che ci sia non solo una buona forza relativa e quello lo vediamo per esempio dal confronto con l'argento, l'oro è arrivato ai massimi da 30 anni nel ratio nel rapporto tra ore e argento che è andato sopra 90 e tuttora è sopra 90, 92,6 quest'oggi ma c'è anche un altro discorso che ci sono grandi flussi in acquisto visti sugli ETF insomma gli ETF possono misurare i flussi in acquisto in vendita perché naturalmente devono poi fare le coperture con l'oro fisico e quindi mi giungono notizie nell'ultimo mese di ottimi flussi in acquisto sul metallo giallo va bene senti siamo in chiusura Giancarlo grazie mille come sempre Giancarlo Dallaglio comodities trading punto it ciao grazie a tutti voi e una buona giornata la prossima terminiamo l'approfondimento legato al mondo delle materie prima andiamo in pausa a Forex Update e subito analisi tecnica con Andrea Caretisano grazie a tutti